E' il Green Pass l'ennesimo fronte aperto all'interno del Movimento 5 Stelle, un M5S che, mentre in aula alla camera si discute la proroga dello stato di emergenza, si scopre spaccato sull'opportunità di confermare o meno lo strumento del certificato verde in chiave anti-Covid. Con la linea di Giuseppe Conte sconfessata dai suoi parlamentari. E l'ex premier è poi costretto a fare la voce grossa per far rispettare la sua decisione. Nel corso dell'assemblea dei gruppi con Giuseppe Conte, convocata sulla piattaforma Zoom di Buon Mattino, sono molte le voci critiche che si levano dalla compagine parlamentare stellata per chiedere lo stop alle misure restrittive. Siamo in uno stato di diritto dove non si può discriminare, abbiamo creato una tensione sociale infinita. Questa non è una battaglia che si può lasciare alla Lega, attacca la vicepresidente del Copa Sirdieni. Dicendosi contraria al Green Pass rafforzato per il lavoro e per i mezzi pubblici. Critiche al vice ministro della Salute Grillino arrivano dal collega senatore Pietro Lorefice. Il 25 gennaio Sileri ha fatto un'affermazione terribile, per tutelare gli italiani renderemo ai non vaccinati la vita difficile. Non mi riconosco in queste affermazioni, disconosco tante dichiarazioni fatte da Sileri. Un fuoco amico, al quale lo stesso Pierpaolo Sileri è costretto a replicare, io in tv per difendere la linea di speranza? La linea non è quella di speranza ma quello del governo, controbatte Sileri che rispondendo a Lorefice poi prosegue, ha qualche problema nella comprensione di quello che ho detto. Non ho mai attaccato i non vaccinati, semmai i complottisti, quelli che minacciano di morte, quelli che pensano venga messo un microchip, quelli che mandano i proiettili alla collega immunologa. Grazie per la visione!